buonasera il monday night oggi a fabriano per un capolavoro assolutamente imperdibile di un grande personaggio che è orazio gentileschi parliamo della santa maria maddalena presso l'oratorio della santa maria maddalena in fabriano questo olio su tela imponente che ci si pone in mansi nella chiesetta quando noi entriamo è sicuramente di fortissimo impatto e qui vediamo la santa maria maddalena rappresentata in tutta la sua passionalità lo vediamo innanzitutto in quei capelli sciolti in quella veste rossa molto forte intensa e vedete la sua espressione quindi anche corrugata quindi anche il volto quindi segnato quindi anche dalla passione dalla sofferenza verso il teschio quindi simbolo della morte e verso il crocifisso santa maria maddalena rappresentata nella sua massima passionalità nella sua forte intensità probabilmente qui siamo nella grotta a marsiglia come appunto la geografia ci racconta ma anche vedete questa scena quindi naturalistica molto aspra molto rude molto possiamo dire forte in cui ci troviamo dove i rami si arrampicano vedete anche questa luce che viene ma come vedete il dipinto quindi presenta anche certi riflessi quindi di oscurità anche se come vedete il segnale molto forte la veste rossa quindi simbolo del rosso passione è sicuramente l'elemento quindi importante massima intensità di questa figura quindi rappresentata al meglio da un grande pittore nel tempo quindi siamo a cavallo tra il cinquecento e il seicento anche se il dipinto del 1615 il periodo in cui orazio gentileschi si trova a fabriano un pittore di altissima quindi abilità tecnica un pittore che si pone quindi tra la scuola di diciamo più classicista quindi dei bolognesi di guidoreni il cui contatto lui lo ha nel momento in cui raggiunge roma lui pittore nato a pisa toscano razionomi detto appunto il gentileschi ma anche vedete la forte influenza lo vediamo anche in questa maria maddalena molto intensa quindi una forte influenza anche del di caravaggio tra l'altro un pittore che sarà molto in contatto con lo stesso gentileschi di cui ci sarà anche una amicizia importante orazio gentileschi sarà un pittore sopraffino noi lo ricorderemo soprattutto anche per essere diciamo un pittore di corte tanto che diventerà pittore di corte sia in francia con anna de medici addirittura in inghilterra con carlo primo con carlo primo con re carlo primo quando diciamo avrà un compenso notevole quindi proprio per essere il pittore vicino re d'inghilterra dove tra l'altro lui morirà perché morirà a londra famoso e celebre anche per essere il padre di artemisia ma questa è un'altra storia che avremmo modo di raccontare orazio gentileschi è un pittore importante in quella roma del tempo un pittore che entra in contatto quindi con la potente quindi università dei cartai che trova sede nell'oratorio di santa maria maddalena grazie a dei contatti proprio della dei cartai forti in roma con l'arciconfraternia di santo spirito l'arciconfraternia di santo spirito tra l'altro in contatto con l'università dei cartai c'è questo collegamento molto forte gentileschi probabilmente ha avuto questo contatto da pietro campori che era legato a paolo quinto borghese e lui stesso quindi avendolo visto quindi all'opera quirinale l'ha segnalato quindi agli stessi anche cartai affinché lo ingaggiassero quindi c'è vedete questo forte collegamento anche di santa maria maddalena quindi luogo di questo dipinto eccezionale con con l'arciconfraternita di santo spirito in sassia in roma che cosa dire quindi l'impatto è sicuramente notevole un dipinto imperdibile si trova quindi a fabriano e ne vale assolutamente una visita e sicuramente possiamo quindi definirlo uno dei maggiori dipinti di quel periodo della controriforma che caratterizza questo periodo quindi molto forte che è quello del inizio seicento buonasera a tutti e grazie ancora per l'ascolto